Buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori ancora buon anno a tutti questa è la prima rassegna del 2017 e lo facciamo iniziamo con un sorriso almeno che sia di buon auspicio per tutti allora il santo di oggi il santo lo vediamo subito e torniamo indietro nel tempo dal 2017 da andiamo verso il 300 quindi un bel balzo all'indietro per ricordare i santi basilio magno e gregorio nazianzeno il sole sorto alle 7 41 tramontano alle 16 e 42 il tempo ancora oggi sarà diciamo variabile parzialmente nuvoloso anche se poi le zone interne avranno densamenti più consistenti con aumento della copertura nuvolosa dalla serata e anche precipitazioni nevose al di sopra dai 1400 metri che poi domani martedì 3 gennaio diventeranno più consistenti soprattutto la neve vedete mista a pioggia che la quota neve sarà inizialmente intorno ai 1200 metri ma sarà in abbassamento fino a 700 800 metri nel corso del pomeriggio le precipitazioni saranno diffuse domani nella mattinata prima sul pesarese e poi in estensione al resto del territorio marchigiano e poi ancora fenomeni nel pomeriggio fenomeni residui nel settore meridionale della regione le temperature sono in aumento le minime anche stamattina rispetto ai meno 3 di ieri stamattina erano 6 gradi quindi un'escursione importante in diminuzione invece sono le temperature le temperature massime nelle prossime giornate per esempio mercoledì avremo giornata una giornata stabile poi ci saranno altri episodi di instabilità atmosferica allora tornano i giornali in edicola questa mattina il resto del carlino il corriere adriatico che sono i due giornali che noi prendiamo in esame tutte le mattine con i titoli delle notizie più importanti cominciamo dal tribunale di pesaro che è inagibile dopo l'incendio di venerdì sera provocato da una fotocopiatrice il palazzo di giustizia dunque oggi rimane chiuso per dare la possibilità di effettuare dei sopralluoghi e questa è l'immagine dei pompieri in azione proprio la sera di venerdì poi in piazza con i petardi proibiti sono stati multati alcuni alcune persone che stavano festeggiando in piazza del popolo a pesaro alta tensione con i vigili uno è stato portato in questura per accertamente poi vedremo tra poco anche questo gruppo di 42 coraggiosi che il come consuetudine il primo di gennaio ha voluto salutare questo nuovo anno con il tradizionale bagno di capodanno lo vedremo tra un istante ma ci sono anche ormai consuetudine anche questa i primi nati i primi nati a pesaro e a allora a pesaro è arrivato rafael alle 14 39 di ieri e pesa 4 pesa 140 scusa 3 kg 3 kg 140 grammi la mamma è francese mentre a fanno alle 16 e 49 nel reparto della santa croce è arrivato tommaso però vedete è allarme rosso nei tre reparti di ostetricia della provincia perché ci sono queste nascite praticamente in calo e il motivo è presto detto perché gli stranieri non fanno più i figli come una volta come sei o sette anni fa quando venivano qui in italia e facevano 4 o 5 figli per famiglia adesso che sono in italia hanno capito che qua la storia è tutta un'altra storia e di conseguenza anche loro non fanno più tutti quei figli e quindi al massimo arrivano a due arrivano a due in particolare le famiglie del nord nord africa aumentano invece i parti gemellari spesso dovuti a terapie pro fecondità questo è il resto del carlino c'è stato poi un assalto al bancomat la cronaca assaltare un'esplosione alla filiale del monte dei paschi di siena il bottino di 30 mila euro e si è concluso con l'ennesimo botto ma non per la festa l'anno orribile dei bancomat dell'entroterra fanese sia sul versante metaurense sia su quello del cesano la notte tra venerdì e sabato è saltato il dispositivo erogatore di contanti appunto della banca toscana dei paschi monte dei paschi di siena di calcinelli che oggi si chiama anzi da ieri si chiama colli al metauro e che si trova lungo la flaminia al numero 57 e adesso apriamo le due pagine invece del delle feste vediamole subito eccolo qua così abbiamo un'idea forse era meglio fare allora facciamo così uno e due ok perfetto questa è la sono le due pagine così come le vedrete acquistando il giornale questa mattina in edicola allora botti proibiti in centro a pesaro scattano le multe sorrisi invece per i giovani runner corridori in mutande le vedete con le mutande rosse poi al centro la polizia locale il poliziotto un agente della polizia mentre guarda i petardi o meglio questi sono piccoli fuochi sono quelli ammessi le girandole insomma sono quelle cose innocue che hanno mentre guarda queste girandole appunto luminose sotto la piazza di Fano con la neve ma anche con i petardi e Fano invece sono stati molto più tolleranti i vigili perché non hanno elevato multe non hanno fatto nulla e quindi sono andati avanti così ma alla fine ci sta il tuffo di Capodanno invece che non tradisce il pubblico in 42 hanno fatto il bagno per il 22esimo anno di fila il sole scalda la temperatura fino a 8 gradi e mezzo l'acqua ancora meno fredda in centinaia invece di persone sono andate a vedere questo questo rituale dal molo in tanti sui moli per vedere queste persone che appunto si anche noi questa serie faremo vedere un filmato che ci hanno mandato i nostri segnalatori di pesaro che ringraziamo allora adesso andiamo invece sul Corriere Adriatico apriamo il Corriere Adriatico l'edizione di Pesaro dove il titolo principale è per il tribunale il tribunale inagibile aperto solo per le urgenze l'ordinanza emessa per il sopralluogo dopo l'incendio è stata necessaria la bonifica dunque il palazzo di giustizia è chiuso oggi dopo il fuoco di venerdì sera il presidente del tribunale Mario Perfetti ha emesso un'ordinanza che dichiara parte della struttura inagibile per la giornata odierna in modo da consentire la bonifica in programma ma restano garantite le udienze in programma oggi anche qui il tuffo di Capodanno con folla da stadio botti a San Silvestro un ferito alla mano entriamo nelle pagine quella di Fano del Corriere eccola per con la piazza la piazza 20 settembre con la folla festante che ha salutato il 2017 vedete anche la neve la neve finta che ormai va di moda un po in tutte le piazze a Capodanno festa con i botti il brindisi sotto la neve finta ignorato il divieto di petardi rumorosi in piazza lanciati i fuochi proteste e niente multe gli 88 folli hanno animato la serata con ritmi folk ma l'una il pubblico se n'è andato a casa troppo alcol invece quattro ragazzini sono finiti al pronto soccorso mentre i vandali hanno distrutto un monumento in a Sassonia di Fano l'indignazione poi con tanto di fotografie su facebook ve le faremo vedere anche questa sera nel corso del telegiornale poi nuovi alloggi in una zona sprovvista di parcheggi siamo nella zona del mare in via mascherpa sempre a Fano e si tratta dell'ennesima pianificazione sbagliati i residenti sono esasperati costruiscono ma di fatto non ci sono davvero posti nemmeno per parcheggiare dall'aprile scorso il comune non risponde ai cittadini ed è stato negato loro anche l'accesso agli atti servizi del territorio centrali per la salute il presidente regionale dell'ACRI Maurizio Tomassini chiede di mettere mano al nuovo piano regolatore dalla valle del cesano la cronaca con l'assalto esplosivo al Bancomat del Monte dei Paschi di Siena colpo notturno alla Banca Toscana di Calcinelli questa in realtà qui si parla della Banca Toscana di Calcinelli 4 in fuga con 30 mila euro Banca Toscana di là a Monte dei Paschi di Siena insomma vabbè comunque poi vi diremo anche stasera con più esattezza per la deflagrazione è stata usata la tecnica della marmotta che consiste nell'inserire un ordigno detonante i residenti sono stati svegliati dal botto vedono in azione incappucciati dell'est con una potente auto questa è la fotografia quindi è Banca Toscana la filiale della Banca Toscana assaltata dai banditi il 31 di dicembre esplode un petardo resta ferito alla mano è un cinquantenne di pergola al punto di primo intervento è stato medicato proteste invece per i tanti botti che sono stati esplosi a Senigallia anche qui il resoconto della serata dell'ultimo dell'anno scoppiano petardi al party ma il botto è lo show di luci piazza gremite per la notte la lunga notte di musica successo dello spettacolo alla Rocca incantati dai fuochi d'artificio e dalla grafica 3d sulle notte di Wagner e Ciacoschi dunque Mangialardi invece il sindaco lo vedete qua mentre è sullo scranno del suo municipio della sala consigliare nel consueto bilancio di fine anno dice vogliamo più forza dell'ordine il sindaco annuncia nel 2017 riapriamo palazzetto Baviera sempre dalla cronaca di Senigallia l'esasperazione di una mamma che tutti i giorni va a pregare sulla tomba del proprio figlio al cimitero il figlio è un ristoratore un noto ristoratore morto otto anni fa la madre disperata si sente male per nel vedere l'ennesimo raid l'ennesimo dei ladri dei ladri che gli rubano tutte le volte le rubano i fiori quelli che lei con amore porta ogni giorno questi dispetti questi raid continui sulla lapide di barbato stefano barbato che appunto questo ristoratore morto otto anni fa soli 43 anni nel luglio del 2008 durante una violenta grandinata stava attraversando la strada per raggiungere la macchina quando un veicolo lo ha sfiorato facendolo finire a terra lui ha battuto la testa e lì purtroppo è morto la mamma tutti i giorni appunto come dicevo va a pregare e lei dice adesso lasciateci in pace mentre un avvocato è rimasto ferito a tre castelli nel frontale tra due automobili un violento scontro a ripe di tre castelli nella tarda mattinata di sabato dove sono rimasti feriti l'avvocato angelo raffaele di lillo e una ragazza di monte san vito da varia peggio è stata la ragazza di 36 anni che è stata portata via in eleambulanza al torrette di ancona mentre da urbino il pd chiede le dimissioni del sindaco di centrodestra gambini zero strategia solo dimissioni il sindaco fa spallucce hanno complicato ma occorreva un'assunzione di responsabilità ed è stato un grande successo nelle pagine di urbino del corriere un successo la pista di ghiaccio che si trova vedete sotto lo splendido scenario di borgo lì a borgo mercatale dove c'è il palazzo ducale grande affluenza tra la festa alla data e borgo mercatale appunto e poi a fossombrone dell'ospedale c'è rimasto soltanto il nome a fossombrone si sta ristrutturando l'ex punto di primo soccorso intervento il ppi ora c'è il punto di assistenza territoriale quindi imparate a riconoscere anche le sigle PAT il pronto soccorso invece è a urbino un catanese catanese dello smimar che dice crea confusione al paziente di immediato resta il 118 sempre che non sia però già impegnato in altri interventi è esclusivamente una struttura ambulatoriale non deputata a gestire le emergenze attenzione quindi allora mi pare che altro non ci sia da segnalare quindi noi ci fermiamo qui per la rassegna stampa per tutte le altre notizie chiaramente vi aspettiamo stasera le 20 e 30 nell'edizione del telegiornale occhio alla notizia e vi ricordo che come sempre per le vostre segnalazioni c'è il numero 338 4968250 lo potete segnare nella vostra rubrica telefonica magari scrivete fano tv o scrivete occhio alla notizia come più vi piace lo segnate lì e poi ci contattate attraverso whatsapp e lì potete mettervi in contatto in qualsiasi momento con noi inviarci fotografie video e quant'altro grazie per averci seguito a voi tutti l'augurio di una buona giornata